Per il recupero della diciottesima giornata del campionato di primavera scendono in campo Cesena e Spezia, padroni di Gaza che si schierano con Fantini, Soumaina e Carnicelli, Ceccacci, Farabegoli, Cavallari, Condic, Damo, Tommassini, Malè e Gasperoni, risponde lo Spezia con Fontana, Candela e Della Pina, Gavini, Selimi, Acampora, Giuliani, Demofonti, Monti, Vatteroni e Cantatore. Tutto è pronto per l'inizio del match con il Cesena che prova subito a fare la partita, azione sulla corsia di sinistra con Carnicelli che mette al centro, il pallone arriva a Gasperoni, il tiro con il destro, palla alta sopra la traversa. Al diciassettesimo si sblocca l'incontro sui sviluppi di una rimessa laterale, il direttore di gara ravvisa un falo di mano in area di rigore dal dischetto, si presenta a Tommassini e mette in rete per il gol che vale il momentaneo 1-0 del Cesena sullo Spezia. Ancora il Cesena in avanti, qualche istante più tardi, i suoi sviluppi di un corner, un batti e ribatti in area di rigore, il cross ancora al centro dell'area da parte di Ceccacci, il pallone arriva a Malè che da pochi passi mette alto sopra la traversa. Al ventiteresimo prova a farsi vedere lo Spezia con il tiro dalla distanza da parte di Demofonti, nessun problema per Fantini che pare a terra. Al trentaseiesimo arriva il gol del raddoppio, grande azione sulla corsia di sinistra, parte di Dammo che mette al centro per Malè che a tu per tu con Fontana non sbaglia e di piatto sinistro realizza il gol che vale il momentaneo 2-0 del Cesena sullo Spezia. Nelle finali ancora Cesena con Tommasini, il tiro di destro, l'area è spinta da parte di Fontana. Si va dal riposo sul doppio vantaggio per il Cesena all'inizio di presa. Al ventesimo il cross della corsia di sinistra di Carnicelli per la testa di Tommasini, palla alta sopra la traversa. Poi ci prova anche a Cammadu, entrato nel corso del secondo tempo, il pallone per Malè che con il sinistro non trova il tempo giusto per battere a rete. Al trentanoesimo Spezia rimane nei dieci uomini, scaramucce tra Tommasini e a Campora. Il numero 6 lo Spezia a Campora viene espulso dal direttore di gara e questa l'ultima mozione delle match prima del triplice fischio finale con il Cesena che batte lo Spezia per 2-0 nel recupero della diciottesima giornata. Grazie a tutti.